La Santissima Trinità con la Vergine Maria, San Giovanni e gli oratori è un affresco di masaccio conservato nella terza campata della navata sinistra della Basilica di Santa Maria Novella a Firenze databile tra il 1425 e il 1428. È universalmente ritenuta una delle opere fondamentali per la nascita del Rinascimento Italiano. In essa si trovano tutti i principali contenuti della cultura umanistica. Si tratta dell'ultima opera conosciuta dall'artista morto a soli 26 anni. Ho avuto modo di ammirarlo molto da vicino, poiché il dipinto è in fase di restauro ed hanno appuntato un palchetto che permette di avvicinarsi parecchio. È veramente uno splendore. Grazie.